Ciao ragazze, innanzitutto tantissimi auguri di buon anno. Oggi vorrei inaugurare il nuovo anno con un video relativo al mondo beauty. Per la precisione, come avrete letto dal titolo, vorrei parlarvi dei miei prodotti top per la cura dei capelli. Ho sperimentato e utilizzato diversi prodotti e penso che quelli che vi mostrerò oggi per me siano i migliori in assoluto. Prima di mostrarvi i prodotti vi dico che ho dei capelli tendenti al mosso per quanto riguarda le punte. Quindi se dopo averli lavati non so lì a insistere con la piega, durante la giornata tendono a diventare molto mossi sulle punte. Mentre nella radice fino a metà sono lisci. Un'altra cosa, non attingo i capelli da circa 9 mesi, anzi no, forse anche 10 mesi. Quindi il colore che vedete è il mio naturale più o meno fino a qua. Al di sotto ci sono ancora dei residui della tinta nera che ho avuto in passato, sulla quale poi avevo fatto una leggera decolorazione. Cioè avevo decolorato dal barocchiere qualche ciuffettino. Che altro dirvi? Sì, i prodotti che vi mostro sono dei prodotti quindi per capelli non trattati. Penso però che vadano bene anche per capelli appunto tinti. In questo video non vedrete maschere appunto per fare degli impacchi. Perché non avendo dei capelli tinti al momento ne sto utilizzando. Quindi adesso vi mostro velocemente i prodotti. Il primo prodotto del quale vi parlo è questo shampoo di FITO. È uno shampoo per cute grassa. Infatti io ho una cute grassa. Qui c'è scritto che è uno shampoo pulificante sebo regolatore. Allora, come funziona? Praticamente io ne verso un po' sulla mano. È un prodotto che ha una consistenza super liquida. Quindi bisogna fare attenzione perché quando lo si versa rischiate veramente se non fate attenzione di svuotare mezza bucetta. Quindi basta pochissimo prodotto per fare una bella schiuma. Lo lascio in posa per circa due minuti quando posso. In questi due minuti cerco di massaggiare bene la cute. E poi procedo con il risciacquo abbondante. È un prodotto che utilizzo tre volte a settimana perché appunto avendo dei capelli grassi faccio tre lavaggi a settimana. Anche se è sconsigliatissimo. Però ragazzi io non riesco a tenere i capelli così. Anche se li leggo comunque non mi sento mai pienamente a mio agio. Oltre a questo shampoo che praticamente io utilizzo per la prima settimana tre volte. Quindi per tutti e tre i lavaggi. Poi per la seconda settimana utilizzo quest'altro shampoo che adesso vi mostro. È praticamente uno shampoo indicato per capelli sottili. È appunto uno shampoo umilizzante intensivo. Allora, vi spiego brevemente come li utilizzo. Allora, ripetiamo. Per la prima settimana utilizzo lo shampoo per capelli grassi per tutte e tre le volte. Poi la seconda settimana utilizzo per due lavaggi lo shampoo per la cute grassa. Mentre il terzo lavaggio lo faccio con questo che è appunto lo shampoo volumizzante. Poi la terza settimana vado praticamente a scalare. Quindi utilizzo per una volta sola lo shampoo per la cute grassa e per gli altri due lavaggi invece utilizzo questo. Che è appunto quello per volumizzare i capelli. Sono dei prodotti eccezionali. Devo dire che ho notato dei grandi risultati fin dalle primissime applicazioni. Quindi li straconsiglio. Io solitamente li acquisto in parafarmacia dove avendo appunto la mia tesserina ho diritto a degli sconti. Appunto se avete dei problemi di cute grassa o comunque di capelli che dal secondo giorno tendono ad essere un pochettino piatti. Direi che se provate questi prodotti secondo me non ne rimarrete deluse. In combo poi con fitovolume utilizzo poi fitobaum volume quando si pronunci così. Che cos'è? Praticamente è una sorta di balsamo che vado ad accompagnare cioè ad utilizzare quando lavo i capelli con per l'appunto fitovolume. A differenza del classico balsamo si presenta come un prodotto molto più denso e corposo. Cioè praticamente è una crema. Io vado a versarne una noce sul palmo della mano e poi procedo applicandolo sui capelli partendo più o meno dalla metà evitando di toccare la cute e poi appunto lo stendo fino alle punte. Dopodiché pettino e districo i miei capelli con un pettino a denti larghi. Devo dire che oltre a fornire volume aiuta anche a districare molto bene i capelli molto velocemente evitando anche appunto di soffrire per i nodi. Soprattutto quando magari uso la spuma tendo sempre ad avere molti più nodi rispetto al normale. E quindi con questo prodotto devo dire che mi trovo molto bene anche per questo motivo. Fine per quanto riguarda le shampoo diciamo che una tipologia, un brand che mi piace molto e del quale vi avevo già parlato in passato è questo di Garnier Ultra Dolce. Come vi avevo già detto utilizzo molto spesso questo tipo di linea variando però di volta in volta la profumazione. Ad esempio al momento sto utilizzando questo che è praticamente uno shampoo dolce lenitivo. C'è scritto delicatezza d'avena ed è praticamente crema di riso e latte d'avena ed è indicato per capelli delicati. Lenisce, idrata e protegge, tocco morbido e setoso. Di questa linea mi piace tantissimo la profumazione, cosa che per quanto riguarda i prodotti fito viene un pochino meno perché tendono ad avere un po' più una profumazione che sa un po' di medicinale e di conseguenza non mi fa impazzire. Però la linea Garnier Ultra Dolce mi piace tantissimo. Vi chiedo scusa per il continuo cambio di posizione solo che ho il sole proprio di fronte e quindi mi fa questo effetto lucine sul viso che posso capire se ha fastidio da vedersi. Allora andiamo avanti. Sempre di fito utilizzo poi quest'altro prodotto che è praticamente fito keratin. E che cos'è? E' praticamente un siero riparatore per le lunghezze. Questo lo utilizzo sicuramente sempre quando ho intenzione di utilizzare la piastra. Mentre quando utilizzo il fondi ne faccio anche a meno. Allora appunto dopo aver lavato e tamponato i capelli con un asciugamano, li pettino e poi vado ad applicare tre o quattro pusciate di questo prodotto, non di più perché altrimenti rischio di appesantire i capelli, sul palmo della mano. Massaggio e poi vado appunto a stenderlo sulle mie lunghezze. E' un prodotto anche questo molto buono. Che altro dirvi? Sì. Ho notato un miglioramento delle mie punte anche perché non taglio i capelli a diversi mesi e di conseguenza trovo che siano molto più nutrite e non ci sia più quell'effetto paglietta ecco che si tende a notare sulle lunghezze. Altro prodotto per me top è questo shampoo secco di Chloranna. E' uno shampoo all'ortica. Non so se avete visto i miei vecchi video sui prodotti terminati. Comunque molto spesso vi mostro lo shampoo secco di Batiste. Allora devo dire che paragonando lo shampoo secco di Batiste con questo, di gran lunga preferisco questo. E' vero che ha un costo più alto rispetto a Batiste, però devo dire che lascia i capelli molto più puliti, tra virgolette, rispetto all'altro. Mi avete detto con un commento sotto uno di quei video che lo shampoo di Batiste non mi piace perché tende a lasciarvi comunque il capello grasso. Ecco, ora non ricordo il nome della ragazza che me lo aveva scritto, però se mi stai guardando in questo momento prova davvero questo perché penso che con questo prodotto il tuo problema si risolverà. Dunque, io le spruzzo appunto un po' sui capelli, alzando ciocca per ciocca, andando nei punti un po' più critici. Ecco, ad esempio la base della nuca, dove solitamente dopo due o tre giorni dal lavaggio si tende ad avere quell'effetto un po' unto del capello che dà tanto fastidio. E poi appunto, soprattutto, nel lato superiore della testa. Lo lascio in posa per circa due minuti, faccio nel mentre le mie cose, dopodiché vado a buttare la testa all'ingiù perché così si avrà un volume maggiore. Con un asciugamano scuoto i miei capelli e poi procedo ad utilizzare una spazzola. E appunto, li spazzolo, sempre rimanendo a testa in giù, in modo tale che una volta terminata questa procedura, i capelli rimarranno molto più voluminosi. Ecco, una cosa che apprezzo davvero di questo prodotto rispetto a quello di Batiste, è che il capello rimane molto più vaporoso anche a distanza di due o tre ore, ma anche nelle successive ore dal momento in cui lo utilizzate. Perché con lo shampoo secco di Batiste, dopo un po' il capello tende ad appiattirsi, ad appesantirsi, mentre con questo rimane bello luminoso per tutta la giornata. Con lo shampoo di Batiste ero comunque quasi sempre costretta a legarli, mentre con questo li lascio sciolti tranquillamente perché proprio è come se li avessi appena lavati, ecco. Quindi, prodotto promosso e vi consiglio, anzi vi straconsiglio di provarlo. Infine ragazze, dei prodotti per me assolutamente top, sono questi della linea Adorn, acquistati da Acqua e Sapone, pagati pochissimo perché costano 3 euro l'uno. Allora, qui in particolare ho la mousse volumizzante e poi ho la lacca volumizzante. Che dire, sono eccezionali per quanto riguarda la mousse, lavado anche questa ad applicare sulle punte, quando ho i capelli umidi, e poi procedo con il fond. Lascia le punte ondulate, non ha quell'effetto bagnato che, non so, personalmente a me dà fastidio, non mi piace da vedere, però sembra proprio che sia un riccio bello naturale. Per quanto riguarda poi la lacca, anche questa trovo che sia molto buona, oltre alla profumazione che per me è super, però allo stesso tempo fissa molto bene i capelli senza andare ad appiattirli. Perché è vero che direte, certo non gli appiattisce perché c'è scritto che è volumizzante, però questa dicitura io l'ho trovata anche su altri tipi di lacche, ma poi in realtà non era così, perché tendeva ad appiattire i capelli, a dargli quell'aspetto un po' quasi, oserei dire, unto, quindi assolutamente bocciati. Questo invece mi piace tantissimo. Dunque, siamo giunte finalmente alla fine di questo video, nel quale ho fatto mille cambi di inquadratura, però portate pazienza, purtroppo non ho più il tempo di poter gestare il mattino, di conseguenza posso farlo solo al pomeriggio, e avendo il sole di fronte si crea questo effetto fastidiosissimo dovuto alle luci, alla serranda e niente, cercherò magari di organizzarmi con le luci artificiali, anche se io le odio sempre tantissimo, perché non riesco mai a impussarle ogni volta, un disastro. Io vi mando un bacione, vi faccio ancora tantissimi auguri di buon anno e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao a tutte!